Siamo a Roma, presso la Sala San Pio X, via Ospedale 1, angolo con via della Conciliazione. Siamo vicinissimi a Piazza San Pietro, in una struttura appartenente alla città del Vaticano, per un evento bellissimo, la mostra dei 139 presepi più belli del mondo. Do una iniziativa voluta dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. Una mostra di 139 presepi provenienti dalle parti più variegate, più disparate del mondo. E siamo qui perché c'è un motivo di orgoglio tutto nostro, statese, tarantino, pugliese, italiano, quello di vedere tra i 139 presepi più belli del mondo, un'opera, quella appartenente all'associazione Vivere Betlemme di Statte, che è stata realizzata da Fabio Modeo. Beh, che dire, c'è un orgoglio tutto nostro, tutto tarantino, tutto statese, e c'è la volontà di arricchirsi culturalmente, di creare uno scambio culturale, non provinciale, non nazionale, ma oserei dire internazionale, perché questo presepe è al fianco di tantissimi altri presepi provenienti da altre parti d'Europa, dell'Asia, dell'Africa, dell'America, del Sud America. Quindi una realtà davvero cosmopolita. E questo è il significato del Natale. E abbiamo deciso di voler dare lustro a questa iniziativa, proprio perché la cultura è condivisione con il resto del mondo. Una pagina davvero meravigliosa per Statte, per l'associazione Vivere Betlemme, perché vedere una propria opera esposta qui nella mostra dei cento presepi inaugurata dal Papa con la presenza di rappresentanze ecclesiali e istituzionali, civili, internazionali, beh, ci riempie di orgoglio, riempie d'orgoglio Statte, riempie d'orgoglio Taranto, riempie d'orgoglio la nostra Puglia. E abbiamo una rappresentanza statese, iniziando dal sindaco di Statte, Franco Andrioli, alle mie spalle l'opera per la quale c'è stato tanto impegno, dicevo, dell'associazione, con il suo direttore artistico, appunto, Modeo. E allora, sindaco, sarà sicuramente orgoglioso nella giornata di oggi? Beh, dire di essere orgoglioso è poco, è emozionatissimo sicuramente, questo è stato solo e solamente grazie ai nostri ragazzi di Statte, ai nostri presepisti, che hanno messo tanto impegno e tanto amore, noi abbiamo fatto, come dire, il contorno. Stare qui, salutare il Papa, baciare il Papa, fare il baciamano al Papa è una cosa bellissima, una cosa emozionatissima, che credo che poche volte nella vita ci capiti una cosa di questa. Ma dirò di più, sua santità si è fermata vicino a questo presepe, ha chiesto al presidente dell'associazione come fosse stato fatto questo presepe e lui ha detto che c'erano degli specchi, Sergio ha detto che specchi non ce n'erano, era fatto tutto naturalmente ed è rimasto ancora più entusiasta di questo presepe qua. Io sono emozionatissimo, a nome mio, ringrazio i ragazzi, a nome di tutto il Consiglio Comunale, di tutta la comunità statese per questo splendido e gioioso momento che ci stanno facendo sognare. Grazie a loro, State e anche al Vaticano e quindi io non finirò mai di ringraziarli per i sacrifici che stanno facendo. Io sono in debito nei loro confronti, spero che un giorno riesca a togliermi questo debito, garantarsi moralmente nei confronti loro, dandogli una sede degna perché loro mi stanno pressando affinché a State si faccia una scuola. Sicuramente è un debito che ho in loro confronti, è un impegno che ho assunto, spero nel breve futuro di poter scompiere questa opera. Sergio Moscaggiuri, Presidente dell'Associazione Vivere Betlemme, vedo dai suoi occhi la commozione, è inevitabile, è un momento bellissimo, forse mi permetto di dire il più alto dell'Associazione. Certamente, perché realizzare un presepe lo si realizza per passione, con amore, con dedizione. Il momento più bello di un presepista è quello che, non che la gente ridica bravo, ma semplicemente che la gente lo guardi. Ebbene, portandolo a Roma abbiamo avuto la possibilità che lo ha visto il Santo Padre, ed abbiamo avuto la possibilità di dire al Santo Padre che sì, è un presepe in stile palestinese, ma che lo abbiamo riprodotto immaginando le grotte di State, le gravine di State, il paesaggio statese, il nostro mare. In questo presepe c'è il mare. Quando abbiamo realizzato questo presepe, ti ricordo che è un presepe grande, sono 20 metri quadrati, poco più di 20 metri quadrati, ed è stato realizzato da sei persone per quattro ore al giorno, in quattro mesi di fila. Siamo stati diretti da Fabio Modeo, che sicuramente è il genio incontrastato nel campo dei presepisti, e ce l'abbiamo noi a State, ce l'abbiamo noi in Italia, in Puglia, a Tarnato, a State. Per noi è un onore aver realizzato questa opera, è stato un privilegio averla portata in Vaticano ai Centro Presepi. A tal proposito, a nome di tutta l'associazione Vivere Betlemme, vorrei ringraziare il sindaco di State, che comunque, a nome di tutta l'amministrazione e per conto di tutta la comunità statese, ci ha consentito di venire qui in Vaticano ad esporre, perché con le nostre forze non ce l'avremmo sicuramente fatta. E quindi ci siamo permessi, signor sindaco, di far stampare una mattonella con il nostro logo, di dedicargliela, di regalarla a lei, ripeto, da Vivere Betlemme, a State, che lei rappresenta. Ma ragazzi, io non so come sdebitarmi di questo. Aumenta il debito. Aumenta il debito morale. Ma dico, questo è ancora, come dire, la ciliegina sulla torta che avete fatto questa sera. Io ripeto, sono orgoglioso di essere qui stasera, di stare insieme a voi, e insieme a voi di rappresentare State a Roma, ma insieme a Sua Santità nel Vaticano. Grazie ancora. E siamo con il Vice Presidente dell'Associazione Vivere Betlemme, Pietro Cecere. Beh, l'emozione è tanta, l'orgoglio di aver accarezzato un sogno e di averlo realizzato. Vi sentite in paradiso? Era una delle piccole mete che forse ci eravamo proposti quando è nata l'Associazione. Miravamo al presepio, si scherzava molte volte, costruendo il primo presepio in grande che abbiamo fatto, si scherzava, andiamoci a fare, facciamo i belli che sicuramente arriveremo in Vaticano. Lo si diceva scherzando. Nessuno mai poteva immaginare che sarebbe diventata nella realtà. Lo è diventato, grazie ai nostri sacrifici, al lavoro che ci è voluto per realizzare l'opera. Grazie a tutti quanti, grazie al Sindaco, grazie a Fabio che ci ha saputi prendere per mano quasi per realizzare quest'opera, non semplice ma sicuramente molto di effetto. Ribadisco, l'emozione è tanto, il fatto di dare la mano al Papa ci ripaga di sacrifici, ci ripaga di tutto quello che ci è voluto per realizzare non solo quest'opera, ne abbiamo altre, siamo stati a Napoli per portarne delle altre. Quest'anno abbiamo toccato il massimo, non so l'anno prossimo quanto potremmo riuscire a fare per fare meglio di quest'anno. Angelo Villani, Presidente del Consiglio Comunale di Statte. Ripeteremo quanto già detto col Sindaco, oggi Statte vola alta, vola nelle alte sfere del Vaticano. Avete avuto anche a benedizione l'imprimatur del Papa che si è soffermato su questa opera dell'Associazione Vivere Betlemme. Sì, buonasera a tutti. Veramente sembra un percorso che è iniziato con Matera, capitale della cultura, poi Napoli e adesso Roma, il centro della cristianità mondiale. Siamo arrivati, penso, al culmine di questo cammino che i nostri presepisti, noi siamo feli come amministrazioni di accompagnarli e loro di darci lustro con la loro arte. Poi la sorpresa di sua santità ha sigillato questa bellissima iniziativa. Don Ivan Ricupero, che è un po' l'organizzatore di questa mostra. Una mostra che unisce il mondo, unisce le nazioni, unisce le razze, visto proprio il carattere internazionale della stessa. Abbiamo alle nostre spalle il capolavoro dei nostri amici dell'Associazione Vivere Betlemme di Statte. Un lavoro certamente ciclopico, un grande impegno, contatti internazionali, ci dica tutto. La mostra, come ha visto, ha avuto modo anche di girare, guardare. Ci sono 139 presepi, provenienti da 40 paesi del mondo. Dietro ogni presepe c'è una storia, c'è un racconto. Sicuramente, oltre alla bellezza, come ci ha ricordato il Santo Padre nella lettera apostolica che ha consegnato a Greccio lo scorso primo dicembre, Admirabile Signum, ha esaltato il valore, il segno del presepe al di là di quella che può essere la bellezza dell'opera in sé, ma quello che quest'opera vuole appunto significare. Un lavoro sì, bello, entusiasmante, che ha coinvolto diverse persone, ma i veri protagonisti sono tutti i presepisti che hanno scelto di donare per questo periodo alla loro opera, di metterla qui in questa mostra e dare la possibilità a tutti i visitatori che in queste settimane si alterneranno di poter ammirare, contemplare e anche attraverso queste opere poter risvegliare anche il dono della fede, che è quello che, come Pontificio Consiglio della Nuova Evangelizzazione, noi curiamo e a cui teniamo particolarmente. Questa appunto viene annoverata tra le opere di nuova evangelizzazione che vogliamo appunto portare avanti con spirito di sacrificio, perché i presepisti sanno che per allestire questa mostra ci sono stati diversi impegni, diverse energie da approfondere e sicuramente comunque penso che il prodotto finale è sicuramente soddisfacente. Poi oggi anche la visita del Santo Padre ha rincuorato tutti questi presepisti che hanno lavorato, l'Isprona, ma anche i visitatori. Come le dicevo già nella scorsa edizione abbiamo avuto 73 mila visitatori e già in questi primi tre giorni di apertura sono oltre 3 mila visitatori che hanno già avuto la possibilità di ammirare la bellezza di tutte queste opere d'arte qui esposte. E come le dicevo anche all'inizio ci sono tante storie, tanti volti dietro questi presepi, storie a volte anche belle che ci edificano, ci spronano a continuare questa opera bella del presepe e appunto anche quest'opera di evangelizzazione. Come dice appunto Papa Francesco il presepe è una grande opera di evangelizzazione. Sì, Papa Francesco l'ha ricordato in questa lettera, è un'opera di evangelizzazione, è una grande opera di evangelizzazione che passa anche attraverso questi segni che possono sembrare piccoli. Lui come ho detto prima diceva l'importante è farlo, poi non conta la bellezza ma è lo spirito che ci sta dietro a quest'opera e invitava e incoraggiava a fare il presepe non solo nelle famiglie ma anche nei nostri luoghi di vita quotidiana perché ci ricordava che un bambino non può che ispirare la nostra tenerezza, quindi non può metterci paura. Sua eccellenza Francesco Cerrati, lo diciamo con una terminologia, con un'espressione italiana è l'ausiliario di Budapest, il significato profondo di questi presepi, la creatività umana al servizio della fede. Sì, ho ringraziato il Santo Padre per la sua lettera, admirabile signum, e ho detto che anche noi abbiamo un messaggio in Ungheria l'anno prossimo, il congresso eucoristico internazionale e aspettiamo anche il Santo Padre, forse verrà a noi e siamo molto contenti che il Santo Padre è venuto qui e ringraziamo anche per la sua presenza i nostri ragazzi dalla scuola Kodai, si chiama, ha recitato la storia di Betlemme, siamo veramente contenti e speriamo che continuiamo a questo incontro con il Santo Padre anche in Ungheria, a Budapest. Edoardo Habsburg, Edoardo Habsburg italianizzando l'ambasciatore appunto di Ungheria, il suo giudizio su questi presepi, il sentimento religioso che si unisce all'arte? Per me era molto commovente, il Santo Padre ci ha detto nella sua nuova lettera che è commovente essere stare davanti al presepe e io qui non solo vedo 100 presepi in questa sala ma anche 18 presepi ungheresi da artisti dell'Ungheria, noi partecipiamo qua dal 1993 ma per la prima volta siamo una specie di ospiti d'onore, allora abbiamo ascoltato il canto di una scuola cattolica di coro di Budapest che hanno presentato una tipica presentazione di Natale ungherese, si chiama Bethlehem as ish di Bethlehem che è la città di Bethlehem e era commovente di vedere il Santo Padre ascoltare anche commovente di vedere il Santo Padre andare a ogni artista, scambiarsi, ascoltare, farsi spiegare e poi naturalmente per me come ambasciatore di Ungheria era molto bello di vedere quando il Santo Padre ha ricevuto una scatola di piccole cioccolatine ungherese che si chiamano solon cukor, che ha risposto con un grazie ungherese ha detto ishten alion, che significa siete sentiti a casa vostra a casa nostra, ma il Santo Padre sa alcune espressioni in un ungherese è molto cordiale, era bellissimo In questa sede dobbiamo anche ringraziare, soprattutto ringraziare l'assessore Deborah Artuso, assessore alla cultura del Comune di Statte che per impegni istituzionali, per la visita del sottosegretario mi pare proprio alla cultura a Statte non potendosi ovviamente duplicare è rimasta a Statte e non è venuta qui a Roma l'impulso dell'assessore Artuso è stato enorme è stata lei insieme al sindaco, con tutta l'amministrazione a volere a tutti i costi accarezzare questo sogno volerlo con tenacia, con abnegazione e ci dispiace che non sia presente ma c'era un impegno istituzionale altrettanto importante e quindi oltretutto lei è una docente quindi parliamo di temi molto sentiti quindi sindaco, un merito enorme al vostro assessore Deborah Artuso si sta spendendo tanto, tantissimo per far crescere Statte sulla cultura questo è un esempio, lei ha lavorato questa sera non è che assente, lei è presente qui se non fisicamente ma moralmente e insieme a noi lei è andata all'inaugurazione perché noi abbiamo espostosi a Roma ma abbiamo avuto anche la fortuna e la bravura di esporre anche a Napoli i nostri presidi sono esposti anche a Napoli e quindi Statte diventa veramente grande io non voglio essere fazioso come dire però l'amministrazione con in testa l'assessore Deborah Artuso stiamo dando lustro dei nostri ragazzi che sono meritevoli di questo lavoro che stanno facendo e che sta girando l'Italia intera io mi auguro, non voglio essere presuntoso ma toccheremo sicuramente tempi più alti e lo dico una volta per sempre anche l'Europa sarebbe un miraggio portare questi pressepi nostri in giro per il mondo in Europa Presidente voglio ritornare al momento sul momento in cui il Papa si è avvicinato vi sarà sembrato di essere in paradiso di toccare il cielo con un dito perché in effetti sono cose che capitano se capitano nella vita di ciascuno di ciascuno di noi capitano in casi rarissimi se capitano certo, è veramente stato terribilmente emozionante diciamo fantasticamente fantasticamente emozionante anche perché come ha già detto prima il Sindaco il Papa camminava, li guardava un po' tutti i pressepi poi davanti al notto si è soffermato ha iniziato a guardare, ha sorriso e ha parlato di specchi e gli ha detto no, Santità non ce ne sono specchi è tutto per sé per quello che vede e ha continuato a guardarlo con entusiasmo lui con i suoi occhi trasmetteva un entusiasmo erano deliziati i suoi occhi e quale è l'emozione più grande per noi però io a tal proposito vorrei ringraziare di cuore tutti i colleghi presepisti dell'associazione che hanno consentito a me e Piero di venire qui a rappresentare tutti quanti e qui ti chiedo Piero di aiutarmi se ne dimentico qualcuno veramente ho il piacere di fare i loro nomi noi Luigi abbiamo sempre parlato di associazione noi abbiamo sempre parlato di Vivere Betlemme ma Vivere Betlemme è composta da persone questa è la sede nella quale vorrei fare i nomi di ognuno di loro perché per ringraziarli per ringraziare la dedizione di ognuno di loro l'abbiamo fatto con l'amministrazione l'abbiamo fatto con gli enti voglio ringraziare tutti i presepisti di Vivere Betlemme e quindi Piero Cecere che è qui con me e poi Pino Damasi il grande Pino Damasi che nel montare questo presepe a Roma ci abbiamo messo due giorni si è fatto male ad una gamba e veramente forza Pino coraggio è tornato zoppicando voglio salutare e ringraziare Emanuele Luccarelli che per farci finire il montaggio del presepe in un giorno ci ha tenuti di giugno in un giorno volevo ringraziare Piero Bello che ci ha dato anche lui ci ha aiutato a prenderci questa opportunità forse ma ancora di più Sergio Marcellini un altro grande presepista di cui si fregia l'associazione lo stesso Angelo Barulli che di contorno ci ha aiutato diverse volte Mimino Marzi soprattutto Mimino Marzi il grande Mimino Marzi che da anni realizza presepi a Statte e delizia gli statesi e tanta gente che viene da fuori ma soprattutto come già detto all'inizio anche Fabio Modio che forse è il più giovane tra di noi il più giovane artista tra di noi ma sicuramente artista noto a livello internazionale e non ultimo ribadisco l'amministrazione che ci ha dato la possibilità di venire qui a Roma se qualcuno ci è sfuggito però l'emozione è tale il cuore batte ancora a mille quindi la stretta di mano col Papa il cuore batte ancora a mille se qualcuno ci è venuto a meno chiediamo scusa però sono tutti nel nostro cuore 139 presepi definiti i più belli del mondo ma vi posso assicurare che questa è solo una scrematura è una parte perché ce ne erano altrettanto belli però ovviamente bisognava come dire cercare un po' di stringere anche perché la sala San Pio non è che potesse ospitare migliaia di presepi ce ne sono tantissimi come detto da tante parti del mondo ora senza voler fare torto a nessuno cercheremo così a volo d'angelo a passan di illustrare di farveli vedere per esempio questi vedete questo presepe vedete viene da Napoli ed è stato appunto realizzato con retti da pesca terracotta coralli conchiglie e alghe ed è un'opera appunto raffigurante la scena della natività realizzata in una conchiglia vedete ecco questa è l'opera ovviamente realizzata in una conchiglia la vedete proprio la il carattere quasi le minuzie e poi vedete quest'altro presepe che ha la caratteristica di essere stato realizzato questo vedete ci sono degli elementi anche di di pasta proprio e e poi vedete ancora qui presepi appunto realizzati con vetro molti elementi appunto di vetro ma potremmo spostarci ancora e abbiamo per esempio dei presepi provenienti dall'Ungheria abbiamo avuto modo di parlare con l'ambasciatore ungherese l'Ungheria ne ha portati ben 19 ecco questi sono alcuni dei presepi appunto provenienti dall'Ungheria altrettanto bello questo presepe realizzato appunto con radici di legno vedete come è appunto intarsiato guardate davvero qualcosa di fenomenale di incantevole altro presepe meraviglioso che mi ha incantato proprio per il colore suggestivo vedete questo celeste proprio quando si dice un qualcosa di celestiale eccolo è un'altra opera proviene da crotone ed è stata realizzata in polistirolo cotone e lana vedete questo meraviglioso gioco di colori tra celeste e bianco altro presepe simile al precedente almeno come colori un'opera proveniente da Roma realizzata con legno compensato cartoncino fogli di acetato tulle e led altrettanto significative queste scritte che ripropongono molte espressioni di Papa Francesco e che la dicono lunga sul significato religioso e non solo del presepe della nascita di Gesù bambino altra opera proviene da Napoli sughero a corteccia e a sfoglia pannelli di legno conci di tuffo piperno stucco terracotta ferro e colori acrilici a tempera o in polvere Napoli capitale dei presepi un presepe davvero grande proprio come estensione non come qualità o come bravura perché i maestri presepisti sono tutti bravi proviene dall'Aquila dalla provincia dell'Aquila quindi dall'Abruzzo legno gesso ferro carta e stoffa un presepe molto semplice ma significativo d'altronde il simbolo del Natale il significato del Natale è proprio la semplicità un'opera che proviene da Pordenone quindi andiamo al nord al nord-est realizzato con legno di radici di prunus e guardate che altro presepe davvero ricco variegato con tanti particolari e tanti personaggi proviene da Roma realizzato con terracotta legno sughero cera stoffe e passamanerie e ora alcuni presepi che sono molto essenziali nel senso che presentano le tre figure cardine del presepe che sono appunto Giuseppe Maria e Gesù Bambino vedete realizzati in vario modo con diversi materiali questo proviene da Guidonia Montecelio provincia di Roma scena del presepe realizzata con terracotta patinata variano i materiali ma il cliché il messaggio è identico così come questo è realizzato dai maestri cartapestai di Lecce e poi ancora un'opera proviene da Matera gruppo scultorio che appunto rappresenta la natività un altro presepe che proviene da Roma ed è bello perché guardate sembra un intreccio sembra un intreccio di radici di questo legno che vari pezzi di legno che si intersecano tra loro e presenta varie tipologie di legno infatti abbiamo legno di ulivo di tiglio di olmo di carpino abete pero ciliegio castagno faggio quercia acacia e pietre bianche di marmo chi più ne ha più ne mette ecco la singolarità è vedere proprio come quasi sembrano sembrano così aggrovigliarsi le varie i varie le varie radici a questo punto di legno mi ha colpito la monumentalità di questo presepe e il bello della diretta abbiamo trovato proprio il suo autore che proviene da Frosinone mi pare ecco mi dica allora ci spieghi un po' il materiale che ha usato anche l'essenzialità perché avete anche voi puntato sui tre elementi Gesù Maria e Gesù Bambino però vedete anche proprio c'è il materiale è un qualcosa proprio di ciclopico se ridire proprio come dimensioni esattamente l'idea è proprio della semplicità della scena che si compone lungo una diagonale ponendo all'attenzione l'elemento principale che è il Cristo i tre elementi il Cristo viene donato al visitatore fluendo verso il visitatore come fonte di vita questa è l'idea molto semplice ma rappresentativa di quello che è la scena guardate quest'altro presepe davvero significativo proviene da Pisa è di notevole notevolissima estensione fatto con legno polistirolo resina terracotta sughero e muschio è un presepe diverso se dire moderno stilizzato fatto ovviamente vedete con elementi appunto simbolici è un presepe essenziale in chiave futuristica l'arte le caratteristiche le caratteristiche di un'arte sempre moderna sempre più moderna all'insegna di un valore assoluto quello della grotta di Betlemme di oltre 2000 anni fa e quindi i sette pilastri dell'educazione secondo Papa Francesco sono stati rappresentati in questo modo parlavamo del carattere internazionale dei presepi e abbiamo questi presepi che provengono dalla Croazia le caratteristiche che sono interamente interamente realizzati in legno questo angolo è molto ma molto significativo perché ribadisce e non finirò mai di dirlo il carattere internazionale di questa mostra dei cento presepi più belli del mondo perché provengono dai punti più disparati del mondo della terra vedete li cito così Messico Spagna Polonia Panama Brasile Spagna Madagascar Germania Svezia El Salvador e ancora Congo quindi anche l'Africa in Sud America con l'Argentina il Perù la Cina vedete e anche Roma Italia vedete il messaggio di Gesù Bambino un messaggio che non conosce steccati che non conosce confini e questo significa molto in un mondo in un'epoca in cui purtroppo si verificano ignobili azioni e ragionamenti improntati al razzismo è un altro presepe davvero bellissimo enorme anche se movente vedete come si muovono i personaggi proviene da Forlì Cesena realizzato con legno gesso e stoffe guardate dimensioni davvero enormi così come fa specie questo presepe la mano del Signore vedete una mano e all'interno del palmo della mano la natività un'opera di Roma realizzata con gesso mastice tempera fil di ferro e materiali riciclati una originalità davvero questo presepe proviene da Terlizzi provincia di Bari realizzato con la pasta vedete è una chicca davvero che bello questo presepe che proviene da Matera rappresenta una chiesa rupestre tipicamente bizantina risalente al XV secolo all'interno i personaggi rappresentano ovviamente Gesù la Madonna in attesa del bambino vedete la Madonna gravida ecco vedete la bellezza di questa opera un altro presepe che si estende si caratterizza per grandezza realizzato in polistirene in gesso metallo legno stoffa e pietra proviene dalla provincia di Roma e andando avanti mi colpisce anche questo presepe anch'esso proveniente da Roma ma guardate il senso della profondità che dà vedete questo quasi orizzonte lontano quasi un color di tramonto ed è un diorama la caratteristica appunto dei diorama rappresentante la natività in stile popolare vedete ma proprio questo diorama è la caratteristica che noi abbiamo già apprezzato molto per quanto riguarda i presepi statesi così volendo spezzare un po' il ritmo dei presepi vedete una serie di effigi di icone vedete di quadri raffiguranti appunto la natività fatti con varie tecniche col cotone col filo con acrilico su tela tela legno gesso tempera acrilico e foglia d'oro insomma ci sono varie tecniche di realizzazione per un unico appunto messaggio vedete ora una serie di presepi caratteristici particolari questi addirittura realizzati realizzato questo presepi tutto in sughero con delle mollette e un altro fatto con le conchiglie vedete questo molto semplice addirittura con il cartone insomma ci si è ingegnati addirittura questo con delle tazzine di plastica del caffè vedete e poi anche questo mi colpisce vedete addirittura questo fatto con con arachi di bastoncini di legno cubo in legno e colla vinilica insomma ci si è sbizzarriti così come vedete quest'altro presepe che potremmo definire marino perché è fatto con tutte le conchiglie un presepe realizzato in polistirolo leggo proviene da Roma presepe palestinese ambientato in un paese del Medio Oriente ispirato da una stampa antica quindi c'è stata questa stampa antica e la si è riprodotta così come vedete un'altra opera davvero bella internazionale proviene dalla Croazia e qui tutti i personaggi sono in sono stati realizzati le varie figure in ceramica ed ora un altro capolavoro guardate com'è grande com'è anche ricco di particolari questo presepe realizzato in sughero legno terracotta cera ferro gesso e stucco un presepe monumentale del settecento napoletano con al centro la rappresentazione della nascita di Gesù ambientata tra le rovine antiche di un tempio e vedete quanti particolari guardate la frutta gli antichi mestieri proprio si nota una dovizia davvero eccezionale di particolari potremmo dire e concludiamo qui la nostra carrellata potremmo definirla una varietas delecta come dicevano i latini una varietà davvero graditissima e bellissima perché abbiamo visto presepi da tutte le parti del mondo con tecniche anche completamente diverse diametralmente opposte per un unico messaggio è certamente l'orgoglio di noi tarantini dico taranto e provincia considerando la meraviglia che è riuscita a produrre state con la sua associazione vivere betlemme è uno dei 139 presepi più belli del mondo un orgoglio tutto statese tutto tarantino tutto pugliese tutto italiano ma gli steccati cadono perché il mondo è unito il mondo è unico e l'universalità di questi presepi lo ha ampiamente dimostrato e l'universalità Grazie a tutti.